Ci saranno due giorni dedicate al fashion event con i nostri amici animali Allora vi faccio vedere subito le preposte dedicate a questione di stile A questa questione di stile un po' speciale A partire dai miei stivali Che vedrete domani, anzi da questa sera a mezzanotte Perché lanciamo Gaglietti, questo sarà il nuovo Today Special Value Ci sono tanti colori a disposizione Uno più bello dell'altro, super comodi Che io ho abbinato a questo abito di amarsi By Silvia Mori, perché ho voluto creare un po' questo Differenziare un po' lo stile Magari un po' bontone Un po' più così da signora Con un biker invece super super grintoso Questo andrà a ruba Lo sai che andrà a ruba Io ci sono domani alle 15 ma non so che cosa presenterò Io guardo già domani mattina Anzi forse da stasera a mezzanotte Mi metto lì, mi apro già il carrello E l'ho acquisto Allora tra poco lo vedremo indossato anche da Lena E ci mostrerà la linea ad uovo L'ampone sta già volando Ma ha le tasche, altra cosa molto importante Perché quando porti gli abiti così Effettivamente la tasca fa comodo Sì assolutamente sì Perché ridi? Perché stai benissimo Ho visto che ti piace questo stile Ma guarda che davvero Dani È stato bravo Massimiliano Mi devo vestire così Brava ragazzi Eccolo Io ad esempio l'ho scelto indossato con questo stivale Un po' per sdrammatizzarlo Vi do un altro modo di indosso Di espressione E lo trovo molto bello Perché l'abito ovviamente rimane Un pochino più bon ton Ovviamente io adesso ho la cintura Perché dietro ho microfoni Però è leggermente ad uovo Sulla parte appunto davanti Con un tacco rimane più elegante Con un biker ovviamente rimane Un po' più grintoso, sportivo Quindi qui davvero Sì scusami Sì è sempre stata Allora da un abito Passiamo ad un altro abito Un altro abito Che è stato un tour de special value Sempre del brand del biker Della giacca Grazie a tutti